We are, we are, we are, we are, we are through the present THE TOTARUN Salve ragazzi bentornati su... sul mio canale Oggi ritorniamo con l'ottava puntata di World Growth di Infamous Dobbiamo raggiungere la seconda città Affrettiamoci Obiettivo in vista là sopra Oddio cos'è? Oh, pessima mossa Sarà fantastico! Torrette automatiche! Ma così non vale! Aha, quindi il loro tallone da killer è il di dietro Sapevo ce lo prendi, mamma Devo continuare a saltare da una torretta all'altra Quegli affari non perdonano! Puglia neanche Puglia neanche Quì! Dove stavo? Perchè non c'ho missili? Maledizione! Eccoli missili! Ok! Questo sì che è un bel salto! La macchina non mi serve ora! A meno che la usi come rampa di acqua! Avete deciso di non nascondervi più dietro ai vostri giocattoli, eh? Olè! Ehi, Patch! Ho lasciato una scia di cadaveri lungo tutto il ponte! Patch? Le donne e la loro scarsa attenzione! Oh, Agustin! Oh, Marta! Che hanno fatto i ponti per starti così sul culo? Quindi mi riconosci? Ah, sì, sì! Sei quella che un paio di settimane fa mi ha accolto in flagrante e mi ha lasciato andare Sei cambiato da allora Intendi la roba del fumo? Sì, è nuova! So che... Hai dei nuovi poteri! Hai ampliato il tuo arsenale! Non so dove tu l'abbia sentito, io... Sono solo un povero sparafumo! Vedremo! Già, per ora mi è servito a poco! Oddio! Oddio! Aia! Aia! Diavolo quanto sei grosso! Va'dire che fino ad ora ti sono da impressionante? Oddio! Aiao, mi prende sempre! Sì, sono grossi Oddio, una frusta Ha cacciato la frusta Ok, ora mi serve Ti faccio male Non posso convincervi a farti buttare giù, vero? Ero convinta anch'io Devo soltanto vederlo con i miei occhi Spero ti renda conto di quanto eserci Ora finisci il grosso individuo di cemento e potremo parlare Cioè, cugino, forse non hai capito, ma ti vuole ammazzare Vuole che io ti ammazzi Ho fatto male questa Questa è un cazzo, eh? Ah 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 Alla fine sì ok forse ho un po mentito sulla questione del neon ma potrei farci risparmiare un sacco di tempo devo solo assorbire un po del tuo potere tutto qui mi stai chiedendo di regalarti il mio potere beh no non tanto da innavissare un ponte ma abbastanza da togliere le tue lame di cemento dai miei amici dopodiché non mi rivedrai mai più io ho un'idea migliore non mi saresti d'aiuto là nella tua baracca perché non resti qui con me no preferisco la mia idea adesso mi deludi no che cazzo è successo non guarda il passo passo che cazzo è stato ecco finalmente la mia meta il quartiere l'hunter ho fatto il giro largo bene ragazzi il nostro gameplay di infamous è finito qui ci vediamo al prossimo con il gameplay numero 8 non mi ricordo più spero vi sia piaciuto lasciate un mi piace commentate se ne volete altri vabbè tanto li farei io comunque e ci vediamo presto con uno dei nuovi gameplay quindi io vi saluto e ciao belli